Onorevole Reguzzoni, prego. Presidente, il decreto legge incentivi che stiamo su cui oggi si pone la questione di fiducia è un provvedimento che noi giudichiamo estremamente positivo. Con poche risorse ha già prodotto effetti che sono buoni e che sono già anche attivi. Chi viene dal mondo dell'imprenditoria sa che la crisi però è talmente forte e che non esiste che un provvedimento che da solo può risolvere i problemi che abbiamo davanti. I fatti anche di cronaca degli ultimi giorni e delle ultime ore impongono una riflessione più ampia sull'economia e sull'Europa. La Lega è nata con una generazione che è entrata in politica quando crollava il muro di Berlino. Avevamo un sogno europeo di un'Europa dei popoli, un sogno di fratellanza europea, un sogno proprio di tanti federalisti, da Cattane a Olivetti, da Spinelli a Proudhon, da Miglio a John Stuart Mill. Avevamo questi sogni ma ci sono stati dei burocrati con le vecchie ideologie che hanno cercato di rovinare questi sogni. L'Unione monetaria porterà stabilità e crescita costante, Giuliano Amato. Stabilità economica è la base della crescita di tutti gli Stati europei, Pado a Schioppa. L'euro scongiura pericoli di crolli e instabilità, Romano Prodi. Oggi un Paese con meno del 3% del PIL mette in crisi tutta l'architettura burocratica e monetaria che avete costruito. Ebbene, uno potrebbe pensare che avete rovinato un sogno. Questa non è l'Europa che la Lega vuole, questa è un'Europa dei mercanti, dei banchieri, dei burocrati. La Lega non ci sta. Solo Bossi aveva capito tutto da subito e l'aveva detto e inascoltato più di dieci anni fa. Noi forse saremo gli ultimi idealisti ma con pragmatismo invece vogliamo batterci perché crediamo e crediamo nella possibilità di realizzare un qualche cosa di meglio, un mondo e un'Europa che sia più giusta e più consona a quelle che sono le aspettative di tutti noi. E le questioni che noi poniamo al Governo ma anche all'opposizione sono tre. Noi vogliamo salvare la produzione manifatturiera nel nostro Paese, vogliamo un Paese e un'Europa democratica e federalista e vogliamo tutelare i lavoratori. Vedete per esempio la produzione manifatturiera. Noi riteniamo che sia fondamentale che un Paese non possa vivere solo di terziario. Noi vogliamo continuare a produrre, non vogliamo lasciare solo alla Cina la produzione industriale e artigiana. E su questo le convergenze si trovano. Abbiamo fatto la Lega e ad esempio Lulli un emendamento identico accolto dal Governo, che ringrazio per questo, per tutelare la produzione tessile made in Italy. Ebbene, su questi argomenti si riesce a trovare un'intesa. Ma noi vogliamo anche un'Europa e un Paese federalista e democratico. Non vogliamo dei settori autoreferenziali. Non vogliamo la logica di Basilea 2, dove dei banchieri autonominatisi e autoreferenziali impongono scelte a milioni di imprese e di cittadini di tutta l'Europa. Noi vogliamo invece un sistema che si basi sulla responsabilità, sul decentramento, sul federalismo fiscale, sul federalismo demaniale, che sono interessi di tutto il Paese. Del nord sicuramente, ma anche del sud del Paese. Bene il Governo che cerca di uscire da queste logiche. Bene, Ministro Tremonti, la volontà di rivedere gli studi di settore. La Lega lo chiede con forza. Andiamo avanti in questa direzione. E poi noi vogliamo tutelare i lavoratori, innanzitutto difendendo il lavoro, valorizzando le capacità, la professionalità, premiando il merito, pensando a dei contratti territoriali che tengano conto, finalmente, dei diversi costi, dei diversi Paesi dell'Europa e nei diversi regioni del nostro Paese. Crediamo anche che sia possibile tutto questo. Oggi, sul Corriere della Sera, Sergio Romano scrive, non è possibile continuare con formule che hanno incoraggiato gli sprechi, la burocrazia parassitaria, l'economia clienterale. La ricetta della Lega, che sposa anche in questo editoriale Sergio Romano, è il federalismo. Il federalismo che porta responsabilità, lo dico anche con forza, il federalismo che serve più al sud che al nord, perché senza responsabilità il sud non crescerà mai. E' la logica, guardo i colleghi dell'Udc, di 150 anni di politiche industriali che hanno sbagliato altri, ma che la Lega non vuole riproporre, perché solo con un federalismo e con una crescita responsabile noi siamo in grado di far crescere il Paese. Da vent'anni Umberto Bossi e la Lega dicono queste cose. Oggi, però, ci sono le basi, come abbiamo dimostrato, perché ci siano convergenze. Sono contento, personalmente, ho molto apprezzato che il primo atto del segretario Bersani sia stato parlare all'interno di un'azienda che produce in Italia la manifattura. Perché è solo così, solo partendo sulle cose concrete, che possiamo dare a questo Paese le riforme che servono. Se vogliamo andare avanti, dobbiamo trovare un'intesa su questi tre punti, sulla produzione, sul federalismo, sulla tutela del lavoro. Io credo che sia dovuto, ma non è assolutamente di forma, ma è di sostanza un ringraziamento anche a questo Governo, all'impegno del Presidente Berlusconi, del Ministro Tremonti, alla capacità di tutto il Governo di prestigio internazionale e di rigore. Vede, il Ministro Tremonti ci impone giustamente delle scelte che anche noi subiamo, come subisce tutto il Paese, ma sono delle scelte giuste e di rigore che consentono al nostro Paese di non essere in questo momento nelle condizioni della Grecia o di altri Paesi dell'Unione Europea. Di questo noi andiamo orgogliosi e per questi motivi, con la voglia davvero di arrivare a uno Stato federale, libero, in un'Europa di popoli, quindi senza perdere la nostra idealità, ma essendo concreti e pragmatici, ringraziando il Governo perché evita al nostro Paese problemi che altrove, invece vedete che situazioni portano, che la Lega esprimerà con convinzione un voto di fiducia.